. Ah! Dove andate? Vado a vedere lo spettacolo. Quanti ne siete? Uno, io solo. Sono sette chilini e mezzo. Allora stavolta si paga. Questa volta si paga. Oh, io me ne vado. Ah! Dove andate? Me ne esco. Quanti ne siete? Uno, sempre io. Solo sette chilini e mezzo. Ma perché si paga anche per uscire? No, è un contributo. Allora mi conviene pagare per l'entrata. E certo, dovete pagare per l'entrata. Ah! Oh! Uno, tutto! La 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 la, la 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 la, la 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 la... La 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 la... C'è una volta che c'era, e forse c'è ancora... Grazie.